Io uscito dal PD. Il PD non c'è più. Il vero PD era quello del bene comune, quello di Bersani insieme a SEL. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, parla a Pescara e spiega perché ha lasciato i dem. Berlusconi fissa l'obiettivo per le politiche. Forza Italia al 30%. Oggi conferenza nazionale degli amministratori azzurri di Maio, Movimento 5 Stelle impedirà che l'inciucio PD, Forza Italia, arrivi al 51%. A Napoli, collettivi studenteschi e centri sociali contestano D'Alema e Camusso. Salta il convegno all'università. Gravissimo, commenta il ministro Fedeli.